Salve a tutti e bentornati. Dopo un bel po' di tempo riprendiamo le conversazioni sulla storia contemporanea o come le abbiamo intitolate e vedete in sovrimpressione la storia di oggi. Parliamo della guerra civile in Spagna, un episodio che occupò diversi anni degli anni trenta del secolo passato, il ventesimo, una guerra che iniziò il 17 luglio 1936 col famoso alzamento, ma parlando di questa guerra civile noi dobbiamo ricordare due cose. La Spagna anzitutto, questa è la prima da ricordare, costituì una grande eccezione europea nel panorama degli anni trenta perché proprio a motivo dell'impegno purtroppo sanguinoso e cruento in questa guerra civile non partecipò alla seconda guerra mondiale. La seconda cosa è che le forze in campo, peraltro in Europa, che si affrontarono all'interno della seconda guerra mondiale, si affrontarono anche indirettamente, non frontalmente, sul terreno della Spagna. La Germania, l'Italia e il Portogallo con l'alzamento nazionale, quello che poi fu il prodromo della vittoria di Francisco Franco, quindi di destra. La Francia, il Messico, l'Unione Sovietica e le Brigate Internazionali con il Frente Popolare di Sinistra o come vengono chiamati Los Rojos, cioè i Rossi. La terza cosa, ce n'era una terza, in realtà è che la guerra fu durissima e si concluse la guerra civile nel 1939 con la presa da parte della destra di Barcellona a gennaio e di Madrid ad aprile di quell'anno. Se dunque il 17 luglio 1936 iniziò la lotta tra conservatori e nazionalisti, una lotta delle cui conseguenze, che furono la vittoria dei nazionalisti, noi comunque non parleremo in questi due video, quindi i conservatori con, o meglio i nazionalisti, i conservatori con Emilio Mola e Francisco Franco, quindi la lotta di conservatori e nazionalisti contro il Frente Popolare, in realtà dobbiamo sapere che dal 1931 con l'avvento della seconda, così fu chiamata, Repubblica in Spagna, iniziò una tremenda persecuzione contro la Chiesa Cattolica. La cosiddetta seconda Repubblica iniziò dopo le elezioni libere del 1931 che furono vinte dal fronte di sinistra, che però disegnò un uomo di centro-sinistra, il presidente dei liberari repubblicani Alcalá Zamora. La Repubblica fu proclamata a seguito di questi eventi il 14 aprile 1931, ma all'interno di questo momento elettivo e democratico la persecuzione contro la Chiesa fu qualcosa di totalmente gratuito e non direttamente, anzi molto indirettamente legata alla guerra civile spagnola. C'è da dire che dai primordi della Repubblica Spagnola fino al 1939, quando finì la guerra civile, appunto con le prese di Barcellona e di Madrid da parte dei nazionalisti, si calcolano all'interno della Chiesa Cattolica, questi morti morirono, furono uccisi, assassinati e torturati 13 vescovi, 4184 tra sacerdoti e seminaristi, 2365 religiosi solo maschi e circa 4000 laici cattolici uccisi. Questa ricostruzione anche statistica, molto precisa o comunque molto molto vicina a una buona approssimazione, ci è fornita da un grande storico, Monsignor Vicente Carcel Ortì, che nacque nel 1940 e tuttora vivente ed è stato un grande storico di tale persecuzione. il suo libro più leggibile è Buio sull'altare, 1931-1939, la persecuzione della Chiesa in Spagna per l'editrice Città Nuova. Che cosa ci rivela Vicente Carcel Ortì, di cui si trovano tanto sul web tantissime sintesi, anche tantissime interviste. La prima cosa è che il 31, l'anno 31, quello che abbiamo definito il terminus a quo per l'inizio delle persecuzioni, il 12 aprile 31 si tenne in Spagna un voto in realtà solo amministrativo, cioè un voto per le elezioni dei municipi, dei comuni e non politico. In tale voto ci fu una netta prevalenza di voti per la monarchia. Il re di allora era un re molto debole, Alfonso XIII, il quale proprio per questa sua debolezza si autosospese e partì per l'esilio. Però questo voto amministrativo sorprendentemente, diciamo, come dire, valutato e non solo valutato a livello di lettura intelligente della situazione, ma valutato nel senso sfruttato concretamente come un voto politico. Non si trattava infatti di un referendum tra monarchia e repubblica, ma poiché i repubblicani di sinistra avevano vinto soprattutto a Madrid, il re Alfonso XIII, che non era un cuor di leone, si spaventò e fuggì. Il Vaticano, la Santa Sede, allora era regnante il Papa XI, subito disse che quel governo era illegittimo perché si era formato a seguito di elezioni amministrative, quindi il voto amministrativo era stato travisato e utilizzato come voto politico, però poi il Papa invitò al realismo e riconobbe subito la Repubblica. Pensate che furono proprio i repubblicani a chiedere per primi loro e come primo riconoscimento internazionale quello della Santa Sede. Anche molti vescovi spagnoli resero visita ai nuovi capi, però già pochi mesi dopo, il 10 e l'11 maggio a Madrid, iniziarono saccheggi, distruzioni di chiese e di conventi. La violenza da Madrid si è stesa in due bellissime città spagnole, Malaga e Siviglia, e si allargò anche, come spesso succede in questi casi, alla distruzione di un grosso patrimonio culturale, non solo nella distruzione delle chiese, ma anche delle biblioteche presso le chiese e i conventi. La polizia non intervenne, nonostante l'evidente torto degli assalitori, il governo non aprì alcune inchieste e così la Repubblica Spagnola, seconda Repubblica Spagnola, si presentò dal 31 in poi col suo biglietto da visita. Il biglietto da visita era bruciare le chiese, ammazzare i cristiani, sia sacerdoti che laici. Alla fine del 1931, dopo altre elezioni falsate, cioè quelle del 28 giugno, la Santa Sede iniziò il negoziato con i nuovi governanti. La Santa Sede è sempre stata, lo sanno benissimo gli ascoltatori esperti di diplomatica o anche semplicemente di storia, è sempre stata molto aperta al dialogo, diciamo così, con i nuovi governi di qualunque colore fossero e in questo senso spesso la Santa Sede si è messa anche contro le chiese locali, i vescovi, i sacerdoti del luogo. Questo avvenne per mano di un famoso nunzio in Spagna, il nunzio Tedeschini. Pensate che nell'occasione iniziati questi colloqui bilaterali tra Spagna e Santa Sede, l'allora Presidente del Consiglio spagnolo, Asagna, giudicò una follia la proposta di espulsione di tutti gli ordini religiosi della Spagna. Questo perché Asagna era un moderato di sinistra, ma l'estrema sinistra repubblicana avrebbe voluto fagocitare la chiesa con l'espulsione di tutti gli ordini religiosi. Così però furono espulsi soltanto i gesuiti, che la pagano sempre da questo punto di vista, il cui fondatore era proprio spagnolo. Nel novembre del 1933 si tenero altre elezioni, vinse la destra, ma non ebbe una maggioranza assoluta, per cui nel febbraio 1936 si tenero altre elezioni ancora, rivinse di nuovo la destra e però nonostante questa vittoria parziale della destra, il che la dice lunga su quanto gli spagnoli erano stanchi di queste violenze della sinistra, il Frente Popolare a motivo della legge elettorale ottenne però la maggioranza parlamentare. E così iniziarono i disordini, il nunzio Tedeschini, già citato, ci ha lasciato un documento di più di 300 pagine, prima di tornare a Roma dove poi fu creato cardinale, raccontandoci la violenza da entrambe le parti. Da destra si attaccavano le sedi dei partiti di sinistra, ma da sinistra la violenza era prevalentemente anti-religiosa, anti-cristiana e anti-credicale. Nelle zone dominate da Los Rojos si vietarono i funerali, i matrimoni, si vietò addirittura il suono delle campane, si profanarono i cimiteri. Questa storia la conteneremo nella prossima puntata. Grazie a tutti!